Ti avevi detto Silvio Berlusconi? Silvio Berlusconi era un uomo che io ho molto ammirato, ho molto parlato con Silvio Berlusconi. Lui mi consideravo un amico, io lo consideravo sicuramente un padre, un maestro, e tutte le volte che firmavo una lettera che mandavo a Silvio Berlusconi la firmavo con il rispetto dell'allievo verso il maestro. Però Silvio Berlusconi è morto. E quindi, siccome Silvio Berlusconi è morto, oggi non c'è Silvio Berlusconi. Certamente Silvio Berlusconi rappresentava un'idea liberale, però intorno a lui c'erano persone che non rappresentavano un'idea liberale.